Flavia, si scrive anche per salvare e salvarci? In generale, il mio atteggiamento dipendeva molto dai nomi. C'erano personaggi che mi erano antipatici esclusivamente per il nome che portavano e altri che amavo proprio per il loro nome, prima ancora di conoscerne la storia. Quando si è nata in me questa debolezza per i nomi, non saprei dirlo. Non saprei in cosa avrei potuto essere più ingiusto. Per uno che ammirava la giustizia più di ogni altra cosa, questa dipendenza dei nomi che nulla riusciva a scalfire, aveva qualcosa di veramente fatale. Essa ed essa sola, io sento come un destino. Scrive Elia Scanetti nella lingua salvata, la sua autobiografia. E forse è così, forse ha ragione lui. Forse chi scrive è dipendente dalle parole più di chiunque altro, che è fatale, il suo destino. Ne sceglie una solo per il suono che fa nella sua testa e per quanto ha a che fare con lui e con quei nomi, i primi, che ha imparato quando era piccolo e di cui ignorava il significato, il senso. Alcuni di quei nomi, di quelle parole, le dimentichiamo. Proprio come dimentichiamo, come si chiamava il professore di greco o di matematica. Di altri ne abbiamo così bisogno da metterli ovunque, da non averne mai abbastanza. Ogni volta che scriviamo è un po' come se facessimo l'appello dei nomi cari e di quelli che ci fanno più male, di cui ci vergogniamo. E facciamo l'appello perché senza quei nomi, quelle parole, saremmo degli analfabeti, o peggio ancora, degli stranieri che a malapena distinguono un'insegna da un'altra. Sì, perché quei nomi e quelle parole dicono chi siamo, dove siamo nati, quanti fratelli e sorelle abbiamo avuto, se siamo rimasti orfani troppo presto. Dicono delle tante case e dei tanti numeri di telefono che abbiamo cambiato. E allora sì. Forse è per questo che scriviamo. Per salvare quel modo che avevano solo nostra madre o nostro padre di chiamarci per nome, storpiandolo quel nome, appuntandolo sui biglietti di Natale, di compleanno o su un post-it lasciato su un tavolo della cucina o del salotto per ricordarci di portare il cappotto in tentoria, di mettere a posto la stanza, di finire tutta la zuppa, di non fare tardi. Per tenere bene a mente tutti quei nomignoli diminutivi, lezzeggiativi, tutte quelle cose dette e non dette. Per salvare dal disastro, come dicevano citati della Gisborg, quel modo ostentato o dimesso di pronunciare una parola, intendere in pochi una vecchia ricetta di cucina, ricordare insieme la storia di un cassettono, di un quadro e loro spostamenti attraverso la casa. Paolo, come rendere interessante il proprio ombelico? Per rendere interessante il proprio ombelico e magari anche la propria calvizie, per dire che ne so, la propria pancia e anche il proprio pene, se volete, la propria vagina o le proprie orecchie. Insomma, per rendere interessanti noi stessi e quando parliamo del nostro ombelico sappiamo che facciamo riferimento a quegli scrittori che passano tutto il tempo a scrivere di loro stessi senza spostarsi mai dalla loro stanza e cioè non è che non si spostino mai dalla loro stanza perché stanno tutto il tempo a scrivere, no, è che raccontano soltanto quello che avviene dentro la loro stanza. E questo allora cosa significa? Che è impossibile rendere interessante e non noioso ciò che avviene dentro una stanza, ciò che avviene su un corpo oppure ciò che avviene appunto intorno al proprio ombelico? No! La grande capacità degli scrittori è proprio quella di inventare, di creare, di riuscire a rendere interessante anche il proprio ombelico, naturalmente se si tratta di grandi scrittori. Pensiamo per esempio a tutti quegli scrittori che hanno passato il loro tempo a indagare la profondità della loro psiche, i loro pensieri. Ecco, lì sì, davvero, senza mai spostarsi dalla loro stanza o anche solo dalla loro testa. In quel caso siamo di fronte a grandi virtuosi che sono bravissimi a raccontare ciò che succede nella loro mente. E in Italia ne abbiamo avuti alcuni che sono stati così bravi come per esempio Svevo, per dire uno di qualche tempo fa, o anche Giuseppe Berto con Il male oscuro per raccontare qualcuno più vicino a noi. Ma direi che sono tanti. Ma per quanto riguarda l'ombelico mi diverte pensare a un racconto di John Cheever che si intitola La pancia, perché la pancia è in effetti molto vicina all'ombelico. Anzi, se ricordo bene, è l'ombelico che è proprio sistemato come una specie di gioiello sopra una pancia. Mi piace l'idea del gioiello sopra una pancia. Forse un giorno ci scriverò un racconto. Insomma, John Cheever ha scritto un racconto facendo parlare una pancia. Ma non la pancia di un generale che sta sempre a cavallo con la spada sguainata e neanche di una ballerina della danza del ventre che la tiene nuda e la mostra agitandola a tutti quanti quelli che sono nel teatro, nel locale a guardarla. No, la pancia normale è di un uomo comune e devo dire che come il racconto è molto divertente perché tutti abbiamo una pancia e pensate voi se la vostra pancia parlasse. Flavia, la scrittura rende liberi? Ogni volta che qualcuno mi fa questa domanda mi viene in mente Paul Valery che diceva l'arte vive di costrizioni e muore con la libertà. Ma come direte voi? L'arte è libertà e costrizione e libertà sono agli antipodi distanti da loro come l'Alfa e l'Omega il principe azzurro dall'orco cattivo la strega da Biancaneve. Come posso essere libero se qualcuno mi punta un fucile contro? La scrittura è libertà. Posso immaginare di vivere in un passato in un futuro lontanissimo posso ridare la voce a Cassandra salvare Barba Blu vendicarmi di tutte le offese non morire mai altrimenti meglio non farlo, no? Vedicarsi altro. Giusto nessuno infatti ci obbliga a scrivere scrivere è difficile costa caro ci sono sicuramente cose più divertenti a cui ci si può dedicare. Eppure pensiamo a quante occasioni abbiamo perso buttato via perché non avevamo una scadenza una consegna e così tutto è scivolato via perché c'erano i bambini da portare a scuola il pranzo la cena da preparare perché la sedia era così scomoda e la stanza troppo piccola o troppo grande per concentrarsi davvero quante occasioni abbiamo sprecato da perdere il conto e sprecare è proprio agli antipodi dell'essere liberi sprecare vuol dire mandare in malora qualcosa che si guasta eppure l'abbiamo fatto abbiamo sprecato tante occasioni l'ultima forse proprio cinque minuti fa forse la verità quella vera è che non si può scrivere sul serio se non si è costretti a farlo costretti da una scadenza una consegna appunto oppure da una storia che ci prende o da quel rimpianto che non ci dà pace dalla paura del buio anche quando fuori è giorno pieno se non siamo costretti troviamo mille scuse Flannero Connor scriveva un paio d'ora al giorno tutti i giorni e in quelle due ore non permetteva niente e nessuno di intromettersi a chi le chiedeva perché rispondeva se non ti metti seduta tutti i giorni al momento buono tu non ci sei e in tutto questo il paradosso è che per essere liberi davvero la costruzione non basta perché ciò che scriviamo ci renda liberi dovremmo essere disposti a fare un passo in più a mettere da parte tutto l'imbarazzo la vergogna tutto lo sgomento l'impotenza che proviamo a stare lì senza difese davanti al foglio bianco e dire la verità quella che non abbiamo mai confessato a nessuno anzi soprattutto quella dovremmo dire la verità e assolverci perdonarci per questo solo così forse la scrittura ci renderà liberi da nostro padre nostra madre liberi da noi stessi e dalle costrizioni prima che da chiunque altro farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura genius se avete una domanda mandate un vocale 351 877 9461 radio genius se ti piace metti mi piace